ciao a tutti qui siamo nel bagno dell'androne dell'ospedale chiello ok partiamo da qua insomma diciamo allora quello che volevo segnalare è che praticamente l'acqua non funziona il rubinetto in auto è chiuso lì dentro non diciamo niente l'odore lasciamo perdere adesso siamo anche cammela c'è una luce vediamo niente luce comunque tutto ci sono dei pezzi appoggiati sento un pavimento solo tutta cosa ci sono dei chiodi ma c'è un altro chiodo e siamo all'ospedale chiello come hai trovato il bagno come ti ho dimenticato il cane non mi capisco non c'è acqua vero se ci ridiamo sopra sarebbe da piangere da questo di questo bagno qua è un'indecenza questo bagno senza acqua allucinante sporco rotto vergognoso nel 2021 fate qualcosa ma fatela però